Presidente Becci, da oggi il Pescara avrà anche la sua casa al porto turistico? Sì, abbiamo trovato questo accordo che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Avere un panorama così importante appunto come il campionato di calcio di Serie A, avere il Pescara Calcio, la sua location più prestigiosa qui presso il Marina di Pescara, non può che renderci soddisfatti. Il tutto deve essere poi abbinato con questo progetto che abbiamo combinato appunto assieme alla Pescara Calcio che porta al centro due punti. Da una parte questa infrastruttura, il Marina di Pescara, gestita appunto dal Marina SRL e dall'altra parte una serie di tappe che seguiranno il Pescara con la comunicazione sulla tipicità dei nostri prodotti. Ecco, crediamo che questo binomio sia assolutamente un binomio vincente, tanto è vero che abbiamo chiamato la comunicazione a una scuola di Serie A, un territorio di Serie A. Presidente, la squadra cittadina di calcio nel massimo campionato rappresenta un'opportunità finanziaria, economica importante per tutto il territorio? In una parola con una valorizzazione. Ecco, oggi essere in un panorama così importante, se noi immaginiamo semplicemente che un quarto d'ora dopo la fine delle partite del campionato un trailer sulla partita va in Sud America, in Centro America, in Nord America, nella parte più ricca dell'Oriente, in tutta Europa. Lei capisce bene quale potenza oggi ha raggiunto questo straordinario veicolo che è il calcio.